E' stata inaugurata ad Adrano la mostra d'arte dal concettuale all'iperrealismo promossa dall'Art Sender Galleria col patocinio del comune di Adrano. Nella sede di Art Sender in via Santa Chiari in mostra sino al 30 aprile le opere degli artisti Caggeggi, Cottone, Ragonesi, Spina e Testa. La mostra è stata inaugurata alla presenza dell'assessore Aldo Di Primo. Siamo felici di poter assistere a queste importanti esposizioni di artisti che vengono anche attraverso delle iniziative private che quindi fanno capire la vivacità che c'è in questo settore nel nostro ambiente. Noi altre volte abbiamo ospitato MOSS di questa associazione Art Sender e questa volta la MOSS è stata ospitata proprio nei loro locali ma noi pensiamo anche nel futuro di poter collaborare dalla nostra mano, dalla nostra partecipazione affinché gli artisti così bravi, così importanti e del nostro territorio vengono conosciuti. Lo scopo di questa mostra è, anzitutto il locale, essendo di Spazio Arte e anche di Art Sender, io sono il titolare, tanto per impegnarlo un po'. Ho ritenuto fare questa mostra con persone selezionate, diciamo amici miei come Pippo Aragonese, maestro Pippo Aragonese, Salvatore Spina e la maestra Mirella Testa e Gabriella Gageggi che è una scultrice e il sottoscritto che anche io sono uno scultore. Durerà fino a 30, il orario di apertura lo facciamo nel pomeriggio dopo le 5 e mezzo fino alle 7 e mezzo. Sto partecipando a questa manifestazione invitato dal maestro Angelo Cottone che da perché tempo mai ci conosciamo e che alle spalle già abbiamo una grande esperienza di esposizione, di pittura e scultura. Quindi faccio i miei auguri ai partecipanti e rinnovo i ringraziamenti al maestro Cottone.